Guarda che è là, timbra là da lui, uno, uno Gianni, uno, vai, vai André è 2, è su ancora, non l'hai strappato via Gianni, 2, guarda qua 3 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 6 5 6 6 7 8 8 9 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 13 12 12 12 13 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 25 22 22 23 24 23 Yes, vai! cazzo peccato eh? peccato, bravo davvero vai! grazie rispettare aspetta, vai! aspetta! vai! no, no, vai! aspetta! vai! no, no, vai! 天 cazzo? ecco Guarda che è lui che ti impara Grazie a te Comunque sono insidiosi per i maledetti Ok ok Comunque sono insidiosi per i maledetti Ok ragioniamo un attimino Andiamo a 40 Dai che si senti la tirata 29 Corri perché non ce la fai 24 Vai Che la fanno La c'è? Fai 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 Sì, 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 sì.